Vita all'interno del Port Village Marina d'Arechi, oltre a colmare le lacune di attracchida di porto in città e servire a livello turistico la costiera amalfitana, al momento priva di un'infrastruttura di questo genere, sarà in grado, attraverso la rivalutazione del territorio, di creare sviluppo economico, industriale, sociale e culturale, valorizzando così integralmente la risorsa mare. La realizzazione a terra di un'estesa area verde rappresenta la vera capacità del porto di diventare villaggio nautico con un'offerta di servizi qualificata in grado di fornire un'adeguata risposta alle aumentate esigenze del comparto nautico da di porto, prevedendo strutture d'accoglienza di facile fruibilità, usabilità e gradevolezza per tutti coloro che hanno il mare negli occhi e nel cuore. Non a caso il nuovo marina viene denominato Port Village per sottolineare il perfetto connubio tra l'area a terra e l'infrastruttura portuale che oltre ad avere un ruolo di eccellenza nei circuiti nazionali ed internazionali del turismo nautico diventa anche luogo di ritrovo e socializzazione. Sarà un porto turistico molto verde. Marina d'Arechi disporrà infatti di 27.000 metri quadri di area a verde. Non un'infrastruttura invasiva, brutale cemento, ma un'opera che riesce a coniugare perfettamente la funzione infrastrutturale con la grande capacità di ecosostenibilità e di collegamento con la città. Trasformazione urbana, trasformazione complessiva del nostro territorio nel segno dell'innovazione e dell'eccellenza.